John Borno, John Borno, John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora prima di iniziare rapidamente recap, perché recap? Perché ieri sono sciti tre sorteggi live Uno sulla Champions, su questo canale, che è andato molto bene, vi ringrazio Siamo andati anche ai 45esimi in tendenza Uno sull'Europa League, vi ringrazio, anche quello è andato a recuperarvelo se non ve lo siete visto E uno sulla Conference, ma è uscito sull'altro canale, Simone Siqual Stesso canale nel quale ogni giorno alle ore 11.30 e 17 escono due nuovi contenuti Quindi mi raccomando, seguitemi anche lì Detto questo, se vi va, oggi in giornata possiamo anche fare un video Prima di, insomma, che aspettiamo il Milan di stasera Nel quale andiamo a dare un'occhiata ai convocati di Roberto Mancini Però adesso bisogna, ve l'avevo promesso ieri in tutti i video Andare ad analizzare i sorteggi che sono usciti per quanto riguarda i quarti di finale di Champions League Mai come quest'anno le coppie europee sono importanti per noi italiani Perché ieri lo facevo vedere, lo mostravo in un grafico sul mio profilo Instagram E dicevo abbiamo portato sei italiane tra Champions, Europa e Conference League Nessuno ha fatto bene come noi ma nessuno si è nemmeno avvicinato Tre italiane in Champions, due italiane in Europa League, un'italiana in Conference League Per il momento le uniche defezioni che abbiamo da inizio competizione sono La Lazio che è retrocessa per poi uscire, quindi la Lazio che è uscita E la Juventus che è retrocessa in Europa League Perché poi per il resto Napoli, Milan e Inter sono andate avanti nella loro competizione di riferimento La Roma in Europa League è andata avanti, la Fiorentina è andata avanti La Juventus comunque nonostante sia retrocessa è diventata di fatto una grande favorita Per cercare di portare a casa, nonostante il sorteggio non sia poi così favorevole L'Europa League Detto questo ovviamente il sorteggio che ha fatto parlare più di tutti È quello che ha messo di fronte Milan e Inter Poi anche ovviamente, scusatemi, Milan e Napoli Poi anche Inter e Benfica Però tutti i sorteggi secondo me meritano una piccola Un piccolo spunto di riflessione Ma prima di iniziare vi chiedo questo su una bordata di mi piace Se volete appunto anche un video nel quale vado a simulare Tutto il tabellone di Champions Europa e Conference League Detto ciò partiamo da quella che sulla carta dovrebbe essere E sarà probabilmente l'impegno meno difficile da affrontare Ovvero la Fiorentina che becchia il Hedge Poznan Allora facciamo un attimo chiarezza Alla Fiorentina è andata molto bene Perché tra tutte le squadre che poteva pescare in Conference League Ha preso comunque la squadra Cuscinetto Cioè la squadra che è passata perché? Perché gli ottavi ha affrontato il Jurgarden Che io non avevo mai sentito in tutta la mia vita E visto che io lavoro con il calcio Vuol dire veramente che il Jurgarden negli ultimi dieci anni Si è affacciata poco a questi palcoscenici Ma soprattutto affronterai il Hedge Poznan Che sicuramente conosco perché so di che squadra stiamo parlando Quando parliamo del Hedge Poznan capisco in che direzione vogliamo andare Ma è comunque una squadra che io credo faccia un discreto piacere affrontare Proprio perché non si parla di uno squadrone Poi chiaramente magari faremo un video sul mio altro canale Appunto Simone Sicco al fatto di cui vi parlavo prima Seguitemi se non lo fate ve lo lascio qua sotto in descrizione Nel quale vi dirò secondo me come render un po' più competitiva questa Conference League Che secondo me rischia di essere abbastanza noiosa Anche arrivati a questo punto della competizione Però ad ogni modo è uscito il Villareal Quindi alla Fiorentina è andata bene È uscita la Lazio quindi alla Fiorentina è andata bene Discorso magari di italiane no Però alla Fiorentina è andata molto bene l'eliminazione della Lazio Le uniche squadre a mio avviso davvero tanto tanto forti Che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla squadra agiliata Sono il Nizza che però è una squadra tutto fuorché europea E il West Ham che è una squadra comunque con davvero tanta poca tradizione E quindi in realtà tanta tradizione ma poca attitudine all'Europa negli ultimi 10-15 anni E quindi è una squadra che si può affrontare Anche la Fiorentina è una squadra con una buona tradizione Ma che ha un'esperienza europea praticamente azzerata Visto che negli ultimi 10 anni non l'abbiamo vista mai Come gioca? Com'è il Lech-Poslen? Allora partiamo dal fatto che ve l'ho già detto Ha eliminato il Lech-Garden agli ottavi Quindi il suo percorso è stato abbastanza agevole Non è che ha dovuto fare niente di clamoroso Anche in campionato non si tratta di una squadra che sta dominando il proprio campionato Nonostante tra l'altro il campionato del Lech-Poslen sia quello polacco Quindi uno dei tornei domestici meno validi E mi perdoneranno gli amici polacchi d'Europa E lo sta dominando il Rakov che dopo 24 gare ha totalizzato 58 punti Ha totalizzato 6 punti in più del Leghia-Varsavia che ne ha fatti 52 Mentre l'Ech-Poslen se ne va terzo in classifica Terzo in classifica 40 punti Quindi è riuscito tutto sommato a mettere il Pogon Sheikin E quindi ha ottenuto comunque un piazzamento di rilevanza Però è terzo, è a meno 18 dal primo posto Non sta dominando in nessun modo, in nessuna maniera il proprio campionato Il mister è l'olandese John van de Brom Che ha come modulo preferito il 4-2-3-1 E probabilmente è con questo sistema tattico qua che scenderanno in campo i polacchi Se dovessi provare a immaginarmi una squadra in campo del Legh-Poslen Questa sarebbe con Bednarek in porta probabilmente In difesa ci vedo bene Milic Magari insieme a Daguerstal Spero si pronunci così che fanno la coppia centrale Attenzione però perché c'è anche Salamon Io non so se voi vi ricordate di Salamon Che ha giocato anche in Italia Ha girato, è andato a Brescia, a Foggia, a Cagliari, alla Samp, a Frosinone, alla Spala Cioè ha girato veramente veramente tanto Non dovrebbe far parte della squadra titolare Va detto però che l'ultimo ad esempio l'ha giocata lui Quindi siamo disposti insomma a vedere quello che succederà Probabilmente a sinistra dovrebbe giocare il rebocio Mentre dall'altra parte giocherà probabilmente Joel Pereira Però attenzione anche a Zukoski che è un buon calciatore Tra l'altro mi fa ridere perché quando la Fiorentina incontra squadre serbe Polacche, Slovene, Slovacche Alla fine due o tre giocatori li compra Quindi sono curioso di vedere quali sarà Il Josip Ilicic che si porterà a casa Un po' come il Palermo Mi ricordate quando il primo prendeva Bacinovic, Ilicic Tutti questi Itch quando affrontava squadre appunto Che erano dell'Est Quindi stasera mi fa molto ridere Va detto 4-2-3-1 Probabilmente in mezzo al campo giocherà Calstrom Jesper Calstrom che è uno dei calciatori più interessanti Che hanno a disposizione E suppongo Ma qui vado appunto semplicemente a supporre Dovrebbe giocare Kvekeskviri Scusate la pronuncia Attenzione perché potrebbe anche giocare Muraschi L'ultima partita ha giocato Muraschi Sulla tre quarti il titolare dovrebbe essere Afonso Sousa Però poi abbiamo anche Skoras Abbiamo anche Shinkas Manzeponno chiamava Shinshack Manzeponno chiamava Normali E davanti la punta sarà Isshack Detto ciò due indicazioni rapide La punta Michal Isshack ha fatto 10 gol quest'anno Quindi segna tanto Gli altri da Skoras a Velde segnano un po' meno Skoras ne ha fatti 6 Velde ne ha fatti 3 Questo Isshack è valido Ha fatto anche 3 assist Ed è quello che ha fatto più assist di tutti C'ha 29 anni È svedese Non è ovviamente Isshack È Isshack Non ha un'esperienza gigantesca Però anche lui c'ha un'esperienza in Italia Che ha giocato a Parma A Crotone Senza in realtà mai fare nulla Poi ha girato anche un po' il Randers Il Nuremberg Adesso si trova all'Esposna Secondo me la Fiorentina Ve lo dico chiaramente Non ha troppi problemi nel passare il turno Qual è il nodo chiave? Il nodo chiave è che la Fiorentina non deve Per nessuna ragione sottovalutare questo impegno Perché se la Fiorentina Pensa di poter sottovalutare questo impegno Va a casa Perché a questo punto tutte le squadre sono abbordabili Lo dicevo ieri nel video Tu c'hai sempre la sensazione di prendere una squadra Che poi effettivamente Non è questa grande ira di Dio Cioè tutte e sette le squadre che la Fiorentina poteva pescare Sì c'era quella lì un po' meglio Un po' peggio Si diciamo ci si alternava in una linea retta Più o meno retta Però si parla comunque di una competizione Dove adesso quella che prendi prendi È più o meno su quello stesso livello lì La differenza dov'è? La differenza è quando si va a parlare di una Fiorentina Perché la Fiorentina non è il Napoli Non è la Juve Non è l'Inter Non è il Milan Non è la Roma Della Lazio non parla Quando la Lazio affronta l'Europa È il Crotone Con tutto il rispetto per il Crotone E quindi sì sicuramente sono tutte squadre abbordabili Però anche la Fiorentina agli occhi degli altri Decima in campionato È una squadra abbordabile Quindi per forza di cose Non dovrà per nessuna ragione sottovalutare l'impegno Becchiamo due portoghesi Una in Europa e una in Champions League Partiamo ovviamente da quella dell'Europa Partiamo dallo Sporting di Lisbona Sporting Lisbona ragazzi Che è una squadra finta Europa League Cioè è una squadra che la Champions la fa tranquillamente È una squadra che Tra l'altro se non vado errato quest'anno E non penso di andare errato Credo che quest'anno sia scesa dal girone di UEFA Champions League È una squadra che Quando la affronti può metterti in difficoltà Sì sicuramente non sta facendo benissimo in campionato Ma ragazzi questo è il periodo delle portoghesi Perché c'hanno il Benfica C'hanno il Porto C'hanno il Braga Poi vabbè che la Fiorentina ha eliminato il Braga Vincendo 4 a 0 Però il Braga sta tenendo un andamento in campionato davvero spaziale Però sono tutte squadre che in Europa poi ti danno fastidio Perché? Perché sono anche squadre di grandissima tradizione E quindi lo Sporting Lisbona potrebbe essere un fastidio A mio avviso per i bianconeri Adesso entriamo un attimo nel vivo Dell'analisi della squadra e del sorteggio Alla Juve nel pescare lo Sporting ai quarti Non è andata male Cioè lo Sporting è una tipica squadra che se peschi ai gironi esulti di Champions League Se peschi agli ottavi esulti chiaramente Se peschi ai preliminari eventuali di Champions League un po' meno Se la peschi in Europa League ai quarti di finale magari non esulti Però sei consapevole e conscio del fatto che ti poteva andare peggio Ti poteva capitare l'Arsenal che però lo Sporting ha eliminato E quindi da non sottovalutare Ti poteva capitare il Manchester United Ti poteva capitare la Roma Per me la Juventus è stata fortunata a non beccare la Roma Perché scontro tra italiane può succedere veramente qualunque cosa Ma ti poteva capitare veramente qualunque squadra che potesse essere peggio Qual è stato il problema del sorteggio della Juventus? Il problema del sorteggio è stato l'accoppiamento alle semifinali Perché comunque vada la Juventus che ha evitato lo United e il Sevilla Se dovesse eliminare lo Sporting la affronterebbe in semifinale Ora a un certo punto uno si fa due calcoli Dice vabbè se la Coppa si vuole vince Qua qualcuna prima o poi tocca affrontarla E se guardate il percorso della Juventus Friburgo-Nant Vi entra sicuramente un po' meglio rispetto che la Roma Che al momento per giocare sempre l'Europa League Ha comunque già affrontato il Betis La Real Sociedad del Salisburgo Cioè secondo me tre squadre sicuramente più complesse Adesso la Roma, ne parleremo tra poco È andata drasticamente meglio La Juventus invece, vi dicevo, becca lo Sporting Lisbona Sporting che nel campionato domestico non sta facendo benissimo È quarta in classifica quindi con Benfica, Porto e Braga davanti Vi ripeto, Benfica e Porto posso anche capirlo Braga è un po' meno accettabile Però alla fine sei costretto ad accettarlo Il mister è Ruben Amorim Che gioca con il 3-4-3 Quindi una difesa 3 da affrontare per la Juventus E non sarà per niente facile da affrontare Ve lo anticipo Andiamo un attimo a studiarci la formazione Probabilmente in Porta ci sarà Adan Lo Sporting c'è il problema di non avere un portiere pronto Io credo che debba comprarlo Adan è fortissimo, è fortissimo Ma c'ha 35 anni A un certo punto tu devi pensare di poter prendere un portiere che ti dia una sorta di futuro Tra l'altro se non vado errato loro un portiere dal futuro certo ce l'avevano e l'hanno venduto Ed era Luis Maximiano che l'hanno dato alla Lazio per fargli fare le paperate Perché da quando è alla Lazio Luis Maximiano non mi sembra che stia brillando di luce propria Anzi penso che se si potesse si otterrà Si sotterrerebbe molto molto volentieri Chissà che mai decideranno di prenderlo L'unica cosa che voglio dirvi è di fare attenzione ad Antonio Adan Perché? Perché ha giocato la gara titolare contro l'Arsenal E ha eliminato l'Arsenal ai calci di rigore Però mi viene segnalato che questa volta Adan ha un problema fisico E che non si sa quando ritornerà Quindi se dovesse mancare sarebbe a mio avviso una mancanza davvero davvero grande In difesa probabilmente giocheranno Difesa 3 ve l'ho detto Gonzalo Inasio Che è fortissimo che io prenderei in questo momento esatto San Giust e il capitano Coates Capitano Coates 32 anni, grande esperienza Già questa difesa ci fa capire comunque come lo Sporting sia un'ottima squadra Però ci tengo poi a sottolineare come qua può tranquillamente anche giocare Diomandè Che spesso lo fa Centrali di centrocampo, titolari Penso che giocheranno Ugarte E con tutta probabilità vicino a lui dovrebbe giocare Morita Ugarte è più o meno come Inasio Cioè sono due calciatori di grandissima prospettiva Ugarte è davvero davvero forte Però anche qua va un po' di lusso alla Juventus Perché probabilmente Ugarte mancherà No probabilmente, sicuramente Ugarte mancherà l'andata Perché ha preso un doppio giallo e quindi salterà la prima gara La gara d'andata In mezzo al campo manca un calciatore che a mio avviso è davvero tanto 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 forte Ovvero manca Braganza Non ha ancora dimostrato nulla È infortunato Si è spaccato Quando era in rampa di lancio Si parlava veramente di un futuro cra Che poi tra problemi fisici eccetera Si è rotto il legamento crociato E quindi è sparito di mezzo E non penso riuscirà a tornare in questa stagione Però ci tenevo a sottolinearvelo Perché lo ritengo veramente un gran calciatore Probabilmente con la mancanza di Di Ugarte Vicino a Il centrale Morita Dovrebbe giocare Adattato Pedro Gonsalves Gonsalves è il calciatore A mio avviso più forte dello sport in Lisbona In realtà di ruolo primario è un ala sinistra Però può tranquillamente giocare da tre quarti Sta da centrocampista Dove lo metti sta Gonsalves è un calciatore straordinario Che può davvero fare la differenza In questo sport in Lisbona Nell'ultima gara Quella giocata a Londra Hanno giocato a sinistra Mateus Reis E a destra Esgaiò Che potrebbero essere i titolari Anche perché a destra C'è un infortunio che è quello di Bellerin Però lo Sporting Tra l'altro proprio Bellerin Ex Arsenal Che ha eliminato l'Arsenal Lo Sporting Puntava molto su questo calciatore Che però tra un infortunio e un altro Ovviamente c'è sempre un problema A sinistra con Mateus Reis Non ci dovrebbero essere invece nemmeno dubbi Per quanto riguarda il trio d'attacco Dovrebbero Allora L'ultima volta L'Argeno ha giocato Trincao a sinistra Ed Edwards a destra Che sono scelte che ovviamente Ci possono anche stare Non ci dimentichiamo però Che sono due destri Quindi uno ha giocato adattato Perché? Perché a sinistra Non ha potuto giocare Pedro Gonsalves Però non ha nemmeno giocato Nuno Santos Che per me è un altro Gran calciatore Sul quale la Juventus Dovrà puntare lo sguardo E farci parecchio attenzione C'è un'ex conoscenza del nostro calcio Piccola conoscenza Che ha giocato 10 minuti praticamente Ovvero Giovane Cabral Che è andato alla Lazio Sembrava dovesse rimanere alla Lazio Invece poi è tornato Allo Sporting Lisbona Davanti il titolare Che ve lo dico a fa È Paoligno Paoligno Trent'anni Fortissimo Che ha giocato anche Contro l'Arsenal Chiaramente è il centravanti Di questo Sporting Lisbona Come avevo già detto Ampiamente A più riprese Lo Sporting è una squadra Forte Con dei calciatori Che fanno la differenza Il capocannoniere È Pedro Gonsalves Che ha fatto già 12 gol Quest'anno Ma anche 6 assist Bene anche Edwards Con i suoi 6 gol E 6 assist Bene anche Nugno Santos Con i suoi 7 gol E 5 assist Mi sono scordato In realtà Di citarvi un giocatore Che Praticamente Loro hanno perso Ma che In realtà Al tempo Faceva davvero La differenza Per quanto riguarda Questa squadra Perché Perché Loro hanno venduto Tanti calciatori Hanno venduto Mateus Lugnes L'anno scorso Nuno Mendes Hanno venduto Soprattutto Pedro Porro Lo Sporting Lisbona Paglini è un altro Lo Sporting Lisbona È una squadra Che ogni anno Trova talenti Che ogni anno Coltiva calciatori E che ogni anno Puntualmente Li cede Perché Delle volte Sarebbe anche giusto Così per una squadra Che si autofinanzia In questo modo Per me la Juventus Passerà il turno Non sarà semplice Credo che Passerà il turno Con un agglomerato Di 1-0-0-0 Cioè di 1-0 totale Perché Lo Sporting È una buona squadra Perché lo Sporting Sa dove mettere le mani Perché la Juventus Non è una squadra Che si getta In avanti Che si getta All'attacco Che va a cercare Magari lo cerca anche Il gol La Juventus Però la conosciamo ormai È una squadra Un po' più ponderata Ve l'ho detto Alla Juventus È andata bene Nel pescare Lo Sporting Però poi Il sorteggio Non ti aiuterà Ha aiutato invece Il sorteggio Molto più la Roma Che ha preso Sulla carta Per quello che sta dimostrando Quest'anno Per il valore dei calciatori Forse addirittura Una squadra più forte Ovvero il Feyenoord Che lo scorso anno Aveva Beccato in finale Aveva affrontato In finale di Conference League Nella famosa Notte di Tirana Famosa per noi E quindi insomma Becca una squadra Che tutto sommato Non è proprio L'ultima della classe Avrebbe preferito Sicuramente prendere Il San Gillo Però siamo fortunati Perché io tifo Roma Nel capitare Nella parte dove ci sono Anche San Gillo E Bayer Leverkusen Quindi Chiaramente la Roma Può uscire con il Feyenoord Chiaramente la Roma Se va avanti Può uscire anche Con la squadra Che passa tra Leverkusen e San Gillo Però comunque Credo che la Roma Con buona dose Di fortuna Sotto questo punto di vista Di José Mourinho Potrebbe tranquillamente Provare a vincere Quest'Europa League O quanto meno Ad arrivare in finale Perché quelle qualità Ce le ha Ripeto Il Feyenoord Non è assolutamente Una squadra sottovalutare Quest'anno sta Facendo un gran campionato È primo Davanti all'Ajax E già questo Di per sé Ci fa capire Quanto stia correndo Il Feyenoord C'ha 58 punti C'ha 3 punti in più Della X Che ce n'ha 55 Poi c'è la Z Che ha eliminato La Lazio a 53 E poi il PSV a 52 È un campionato Molto aperto Nel quale in 6 punti Ci sono 4 squadre Però al momento Lo sta dominando Il Feyenoord La Rumasi E il Feyenoord Oh Scusate Non volevo Mi faccio prendere Partire cazzate E poi il Feyenoord È una squadra Che sta facendo benissimo Quest'anno In Europa League Ha eliminato Qualunque squadra Che gli sia capita Da tiro Ha eliminato Tra l'altro Proprio la Lazio Ai gironi Di Europa League In sostanza Gli hanno nominato Duort Alla Lazio E gli olandesi Prima in Europa League Il Feyenoord E poi in Conference League La Z Alkmar Detto ciò Però il Feyenoord È anche una squadra Che ha affrontato Lo Shakhtar Pareggio se non sbaglio O 2 a 2 O 3 a 3 Lì non mi ricordo E poi però in casa Gli ne ha fatti 7 Cioè quindi Non è una squadra Sottovalutare È una squadra Che gioca a pallone È una squadra Che sa giocare a pallone Il mister è Arne Slott Il mister che Ormai Stiamo imparando In realtà A conoscerlo piano piano Ed è un mister Che scende in campo Con il 4 2 1 3 Che è un modulo In realtà Detto ci sembra strano In realtà non è nient'altro Che semplicemente Mediano Trequartista E poi Quindi è un 4 3 3 Con il trequartista Detto questo Come giocherà Il Feyenoord Arriviamoci In porta giocherà Billo Probabilmente In realtà Billo Si è fratturato il polso E dicono Dicono Che il rientro Sarà comunque Tra circa un mesetto Però io non so Che dirvi Io credo che Billo Farà in tempo E sicuramente Billo è un signor portiere In difesa I centrali Dovrebbero essere Uno sicuramente È Anco E l'altro Dovrebbe essere Trauner Qua voglio un attimo Sottolineare Davide Anco Davide Anco Per chi non lo sapesse È una vecchia conoscenza Del calcio italiano Lo abbiamo incontrato In Italia Alla Fiorentina Alla Fiorentina L'ho presa dallo Zilina In quegli acquisti Che vi dicevo prima Che la Fiorentina fa Quando becca una squadra Sconosciuta Dice ma tu sei bravo E lo prende Lo pagarono 3 milioni e 8 Poi iniziarono a farlo girare Lo prestarono Allo Sparta Praga E lo Sparta Praga Vedendo Dice ma sai che c'è Ma quasi quasi 2 milioni e mezzo Perché la Fiorentina Poi non può appuntarci Te li do Lo Sparta poi l'ha venduto A 6 milioni al Feyenoord Ma a questo momento Ragazzi Questo è un calciatore Dati Transfermarkt Che vale 20 milioni di euro A 25 anni E che per essere al Feyenoord E valere 20 milioni di euro Vuol dire che insomma La sua porca figura L'ha fatta Bravo Anko Questo è un centrale Con il quale secondo me Dovremmo scornarci abbastanza A destra Tecnicamente dovrebbe giocare Gertruda Ma in realtà Loro c'hanno due buoni terzini Entrambi a destra Pedersen E Gertruda A sinistra dovrebbe giocare Lopez O meglio Il titolare è Hartman Che ha 21 anni È un gran calciatore È un classe 2001 Fate attenzione a questo ragazzino qua Tra l'altro È un giocatore Che esce dalla primavera Però ultimamente ha saltato Perché stava poco bene Io credo che Tempo che torna la Roma Cioè che arriva la Roma Lui tornerà Comunque lo valutiamo In mezzo al campo C'è il capitano Che ha 22 anni Ed è fenomenale Ovvero Kokciu E vicino a lui Contro lo Shakhtar Ha giocato Wiffer Probabilmente Giocherà Wiffer Che è un altro ragazzino 99-23 anni Molto molto valido Diciamo che c'è stata anche poca Possibilità di scelta Perché il terzo era Timber Ma Timber Aveva problemi fisici Non ha potuto giocare Perché sostanzialmente Si è fatto male al ginocchio E non è stato a disposizione Se no Insomma nella rotazione A mio avviso sarebbe entrato Anche lui Per quanto riguarda il trequartista Credo ci siano pochi dubbi Simanski Dovrebbe essere il trequartista Di questa squadra Che insomma Ha sempre fatto molto molto bene Davanti In realtà Stavolta a destra Ha giocato Jan Basch Ma per l'infortunio di Vale Mark e loro C'hanno tutti rotti Quindi insomma Hanno dovuto Mettere una mano davanti Una di dietro Però loro i buoni giocatori Ce l'hanno A sinistra giocherà Dil Rosun E poi C'è anche Paisao C'è anche Idrisi Insomma la squadra Ce l'hanno davanti Ecco davanti Sono un po' meno forti Dovrebbe giocare Santiago Gimenez Che quest'anno Non è che stia poi segnando A mio avviso Così tanto Santiago Gimenez Ad esempio È un attaccante Che vale poco Però comunque I suoi sette gol Le ha fatti Si fa vedere spesso La cosa che mi stupisce È che Davide Anco Di cui vi ho parlato Ha fatto quattro assist Quest'anno Quindi è uno di quelli Che ha una visione Di gioco Davvero davvero importante Anche Danilo Ha fatto tanti gol Ha fatto otto reti L'altro attaccante Quello che viene dall'Ajax La cosa che Vi dicevo Manca a loro E sulla quale dovremmo Secondo me Senza alcun dubbio Puntare È il fatto che loro in attacco Tecnicamente Non dovrebbero essere un granché E che tutti i calciatori Ad esempio Che avevano lo scorso anno Che ci hanno affrontato a noi O se ne sono andati Oppure Appunto erano in prestito Cioè vi fa capire Che il capo canoniere Della conferenza Fu Desserts Che poi era in prestito Da Giovella Cremonese Cioè quindi insomma In attacco Non si sono messi benissimo E poi che loro Hanno venduto Sinisterra Negli ultimi anni Hanno venduto Malasia Hanno venduto Sinisi dietro Insomma Molti calciatori Li hanno fatti partire E quindi questo potrebbe Diciamo Tranquillizzarci Però comunque È un match importante Cioè io non la vedo Come una finale anticipata Questa cosa ve la voglio dire Chiaramente per me Roma-Fegenor Non è una finale anticipata Magari poteva essere Appunto la finale di Conferenza League La finale di Europa League No Però comunque Era Poteva essere tranquillamente Una semifinale Cioè vi faccio un esempio Roma-Leverkusen Con la Roma che passa E Feyenoord San Gilloa Con il Feyenoord che passa Roma-Fegenor In semifinale Poteva tranquillamente Essere una semifinale Valida Per l'Europa League Beccarsi ai quarti Con un quarto Che è Leverkusen San Gilloa Forse è un po' pochino Però vabbè Tutto sommato A mio avviso Ci può stare Detto questo Io ho buone vibes Non voglio gufarmela Però credo che Insomma La Roma potrebbe far bene Arriviamo Alla squadra Che ha beccato l'Inter E cioè il Benfica All'Inter È andata Oggettivamente Molto 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 bene Ovviamente Qualcuno mi dira subito Sic Molto bene Ma lo sai che il Benfica È primo in Portogallo Su 65 punti 8 più del Porto Sì Sic Molto bene Ma lo sai che il Benfica È arrivato primo nel girone Con Paris Saint Germain E Juventus Sì Sic Molto bene Ma lo sai che il Benfica Ha fatto 7 gol Gli ottavi contro il Bruges Sì So tutte queste cose Qual è però il problema Il problema è che è arrivato a questo punto O beccavi un'italiana E quindi beccavi il Milan Beccavi il Napoli Ma non volevi beccarle Perché sapevi che insomma Poi il peso era veramente importante Della gara da giocare Oppure molto più semplicemente Però questa era una tua scelta Dovevi prenderti Il Manchester City Il Bayern Monaco E il Real Madrid Ecco Visto che l'Inter sei tu E non ti potevi prendere Tolte tutte queste La squadra più abbordabile Da pescare Era proprio il Benfica E quindi chiaramente Veniva voglia Di prendere il Benfica Perché? Perché l'Inter Se la può giocare Alla pari Ora per il sorteggio Che abbiamo avuto Abbiamo avuto tanto culo Perché in una parte del Bruges Ci sono tre italiane E il Benfica Ragazzi Se mandiamo in finale Il Benfica Io chiedo di fare La Superlega E di smettere di aderire Alla Champions League Che tanto non siamo capaci Se non riusciamo Ad andare in finale Quest'anno Che siamo tre italiane E il Benfica Smettiamola Se riusciamo a mandare in finale Io capisco se c'è sta per Bayern Ma se riusciamo a mandare in finale Il Benfica Il Benfica è tre italiane Allora vi prego Smettiamo Mandiamo tutto a donne Di facili costumi Per me l'Inter può Tranquillamente Senza problema Eliminare questo Benfica Non deve sottovalutarlo Perché il Benfica È una bella squadra È una squadra che gioca bene È una squadra che gioca a pallone È una squadra che sa Dove mettere le mani È una squadra che sa Come giocare a pallone C'ha un mister Che è Roger Smith Che non è un deficiente E anzi E anzi È riconosciuto Universalmente Per il suo gran lavoro Un mister che gioca Con il 4-3-3 Sempre anche lui Con il trequartista Diciamo che il suo Più un 4-2-3-1 Ecco Più un 4-2-3-1 Quando si parla Del modus operandi Del modo di giocare Di Roger Smith Però ragazzi Il Benfica è una squadra Che a mio avviso L'Inter può battere L'Inter può battere Perché? Perché quest'anno L'Inter tra l'altro Mi fa sorridere Il fatto che Io vi ripeto Allora Ai gironi C'è avuto una sfica tremenda Perché beccare Bayer Monaco e Barcelona Vuol dire farsi il segno della croce Però poi Sta avendo abbastanza culo Perché sta facendo Il Portugal Tour Cioè ha beccato Prima il Porto Poi ha beccato Il Benfica Che poi vi ripeto Ste squadre Devi eliminare Perché il Porto Ha eliminato la Roma Tre anni Quattro anni fa Ha eliminato Il Milan L'anno scorso Ha eliminato la Juve Due anni fa Cioè quindi Queste squadre Ha eliminato forse La Lazio L'anno scorso Proprio In Europa League Quindi tu queste squadre Le devi affrontare E le devi battere L'Inter Le ha battute Il Benfica Ripeto Quest'anno ha eliminato la Juve Cioè quindi non si parla Di una squadra Semplice Però chiaramente Rispetto che Ad esempio L'Inter che arriva a seconda E becca il Porto Dopo i gironi Invece magari Il Liverpool arriva a seconda E becca il Real Madrid T'è andato bene Rispetto che Beccare Bayern Potevi prendere il Chelsea Ecco il Chelsea era un'altra squadra Da poter prendere Secondo me Ve lo dico proprio Senza Troppi patemi Senza troppi Troppo remore Troppe remore Allora Il Benfica è una squadra Che sicuramente gioca molto meglio Del Chelsea È una squadra sicuramente più rodata Del Chelsea Sicuramente è una squadra che A livello di gioco A livello di intensità Ti fa un po' più paura del Chelsea Però il Chelsea c'ha i campioni Il Chelsea c'ha queste stagioni strane In cui in campionato fa cagare Poi però in Champions Vince Magari E comunque riesce ad andare Tranquillamente avanti Fino alla fine È per questo Che vi dico Tranquillamente Che visto che Il Chelsea c'ha Quei campioni Che possono deciderla Giocando 5 minuti Io penso sia Meglio Aver preso il Benfica E avere il Benfica Dalla nostra parte Detto questo Il Benfica Nostra parte interna italiana Detto questo Il Benfica giocherà Probabilmente con Vlaccio Dimos In porta Difensori dovrebbero essere Antonio Silva Che ragazzi è fortissimo C'ha 19 anni Ma vale già Oltre i 40 milioni di euro E vicino a lui Insomma Dipende Perché ad esempio L'ultima partita Ha giocato Otamendi Che è Diciamo il calciatore Più esperto Nonché il capitano Del Benfica Però lì il Benfica C'ha anche Morato Che è un ottimo calciatore C'ha anche Verissimo Che è un altro Gran calciatore I due brasiliani Morato è anche giovane A sinistra Dovrebbe giocare Grimaldo Fate attenzione a Grimaldo Che anche lui È veramente tanto forte Mentre a destra La situazione È un po' Meno tranquilla Nel senso che comunque Dovrebbe giocare Ba Però credo che Alexander Ba Non è che sia Sto gran calciatore Quindi a destra Forse il Benfica Dovrà andare a rinvestire La prossima stagione Perché il terzino destro Non è così forte In mezzo al campo Tecnicamente I titolari dovrebbero essere Aursnes E soprattutto Il fortissimo Florentino I titolari In mezzo al campo Dovrebbero essere loro Però in realtà Attenzione Perché qui il Benfica Gioca con una sorta di Vado detto 4 4 4 Diciamo 4 Non lo so È difficile 4-2-3-1 4-4-1 4-3-2-1 Come potete chiamarlo Però i due esterni Sono delle mezzali E giocano Aursnes E Gio Mario Gio Mario Che tra l'altro L'Inter lo ritrova Come ex Quindi l'Inter Dovrà fare anche Un po' di attenzione A mio avviso A Gio Mario Non sottovalutate Gio Mario E in mezzo al campo Potrebbe giocare Sichinio Che è un altro Gran calciatore Che in realtà Nasce come trequartista Ma viene tranquillamente Alternato tra Trequartista E metà campo Hanno preso Schiederloop Che ha 18 anni Che stiamo vedendo poco Ma che piano piano Uscirà fuori Giocherebbero anche Draxler E Gonzalo Guedes Se non fossero sempre rotti Sono rotti Gonzalo Guedes È uno dei calciatori Più interessanti Di questa squadra Come lo è Rafa Che è un altro calciatore Infortunato Bisognerà capire Se il Benfica Riuscirà a recuperare Rafa, Guedes e Draxler Perché si parlerebbe Sicuramente di un altro Benfica Che probabilmente Potrebbe scendere in campo Anche con un 4-3-3 Con un 4-2-3-1 4-2-1-3 Appunto Che vi ho citato In precedenza Quindi magari Con le ali Quei tre quartisti Perché comunque Con tutte le seconde punte Ali Gonzalo Guedes Draxler Rafa E Gioomario Potrebbe tornare a fare La mezzala Però attenzione Perché non vi ho citato I due calciatori Che al momento Se ci stanno Sono più pericolosi Ovvero David Neres Che è arrivato Dallo Shakhtar Che è un fenomeno Che è fortissimo E che agisce E che agisce da seconda punta Gol Del Benfica Che ovviamente Non vanno sottovalutati Per me l'Inter Può passare Con grande tranquillità Sulla carta Però poi in partita Sarà una guerra Cioè preparatevi Perché Sarà veramente Due match Tostissimi Più o meno Del livello del Porto Il Benfica Anche più forte Se non vede il Porto Però comunque L'Inter può farcela Cioè c'è una rosa Comunque molto forte Se Inzaghi Non fa degli errori Madornali Che potrebbero anche capitare Insomma Può essere Ce la possono fare Arriviamo A Milan Napoli Sì C'è lo scontro Tra due italiane Io volevo Fortemente Lo scontro Tra due italiane E lo volevo fortemente Perché significava Per avere almeno Una semifinalista italiana E con il fatto E poi l'altro italiana Ha preso il Benfica Ci è andata veramente Tanto di lusso Quindi molto probabilmente 75% Avremo un italiana In finale Napoli-Milan Napoli-Milan Lo scontro tra Quella che ha vinto Lo scudetto E quella che la vincerà Quest'anno Lo scontro tra Il futuro forse Del calcio italiano Che è il Napoli E il presente Che ha vinto lo scudetto Adesso E il passato Glorioso del Milan È uno scontro Super interessante Io credo Che Sia perfetto così Nel senso Napoli-Inter Si rischiava Di avere Uno scontro Molto bloccato Molto chiuso Molto noioso Napoli-Milan-Inter Sarebbe stata Secondo me Una partita drammatica Una partita drammatica Che forse Si giocherà in semifinale Perché si potrebbe Giocare in semifinale Ma una partita drammatica Leggevo un commento Se non sbaglio Di Pastore Che diceva Il problema è che Milan e Inter Sono consapevoli Del fatto Che sono una Che una vorrebbe pescare L'altra Per il livello Della Champions Però Hanno paura Di affrontarsi Perché Una ha paura Di uscire Con l'altra E secondo me Insomma Avremmo rischiato Di vedere Dei match Davvero Davvero Noiosi Aggiungo anche Un'altra cosa Che il Napoli Che per me Che questo non può Distruggere qualunque cosa Trovandosi davanti Al Benfica Quindi qualora Fosse capitato Inter Milan Avrebbe potuto Sottovalutare L'ostacolo Della serie Dopo che ho Distrutto tutti Sai se devo Pensare che il Benfica Mi possa eliminare Il Benfica è una squadra Che a mio avviso Ti può Eliminare E quindi è meglio Che sia andata così Cioè è meglio Che il Napoli Abbia preso il Milan E che l'Inter E il Benfica Si affrontino Ora Il Milan È molto 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 Più europea Del Napoli E il Napoli Fino a che non vincerà Lo scudetto Non farà turn over In campionato Scordatevi Che se il Napoli Non ha vinto Matematicamente Lo scudetto Tre giorni prima Della gara Di Champions League Con il Milan Farà turn over Non accadrà Perché quest'anno Spalletti sa che È il grande anno Per vincere lo scudetto Ragazzi Non è una cavolata Cioè I napoletani Sentono molto più Lo scudetto Che la Champions League Non sto scherzando Poi chiaramente Quest'anno Si sta mettendo In un determinato modo Il Napoli Ha dimostrato Di poter battere Tutte Ma anche comunque Ha perso con l'Inter Però ha dimostrato Di poterla battere Il Milan Il Benfica Lo può battere Quindi il Napoli Diciamo Io penso che tutte e quattro Le squadre di destra Del tabellone Abbiano la possibilità Di andare in finale Tutte Equamente Inter Milan Napoli E Benfica Tutte e quattro Però chiaramente La parte destra Del tabellone È la più semplice Mentre quella sinistra È quella dove sono Diciamo Riunite tutte Le squadre Più forti Rimaste in Champions League Sulla carta Poi chiaramente Bisogna giocare Perché questo Napoli Ha distrutto il Liverpool Ha arato L'Eintracht Di Francoforte Ma la cosa Sulla quale vado A mettere Un grande punto Esclamativo È il fatto che Tutte le italiane Ad eccezione Diciamo Dall'Europa in su Ad eccezione Vabbè Leviamo Lazio E Fiorentina Milan Inter e Napoli Andate in ritorno Hanno subito Zero gol Roma e Juve Se non vado errato Andate in ritorno Agli ottavi Hanno subito Zero gol Cioè Quindi questo ci fa capire Anche come il calcio italiano Stia facendo Un lavoro maniacale A livello difensivo Per annullare Gli avversari Ora poi Quando si affrontano Napoli e Milan Per me è uno scontro Imprevedibile Cioè Qui non vi posso presentare Il Napoli o il Milan Le conoscete benissimo Vi posso dire Che per me Se dovessi darvi Le percentuali Vi darei Per quanto riguarda Della Fiorentina 70-30 Per quanto riguarda La Roma Darei un 60 Roma e 40 Feyenoord Per quanto riguarda La Juve darei Un 60 Juve e 40 Sporting Per quanto riguarda L'Inter darei Un 55 Inter 45 Benfica Perché una volta Arrivato qua Sono tutte toste Per quanto riguarda Napoli e Milan Io cambierei Di un 1% E darei 51 al Milan 49 al Napoli Ma per due motivi Diciamo che il Napoli Ha un grande Elemento a favore E un grande Elemento a sfavore Il grande Elemento a sfavore Chiaramente È l'esperienza europea Cioè il Napoli Ha già fatto il massimo Se il Napoli Dovesse uscire Contro il Milan Sicuramente Gli roderebbe il culo Perché comunque Puoi provare Ad arrivare in fondo Se non quest'anno Quando E quindi Gli roderebbe il culo Di uscire oggi Contro il Milan Però Avrebbe comunque Vinto lo scudetto Perché vincerà lo scudetto E soprattutto Avrebbe raggiunto Il miglior piazzamento Della sua storia Perché il Napoli Il quarto di finale Di Champions Non l'ha mai Mai giocato Nella sua storia Quindi avrebbe raggiunto Il miglior piazzamento Di sempre E questo ci fa già capire Come il Napoli Sicuramente vorrà vincere Però potrebbe in qualche modo Sentirsi Con la pancia piena Dall'altra parte Dall'altra parte Il Milan Che il campionato Non può più vincerlo E che rischia anche Di Non andare in Champions Cioè ci può andare Come no Perché sono tutte lì È comunque Molto più avvezzo A livello proprio Mentale Europeo E voi direte Vabbè Sic Ma di quel Milan Europeo Non c'è più niente Non funziona così Ragazzi Non funziona così Quando tu C'è solo Ibra in realtà Ma quando tu Sei Parte di una squadra Che è abituata A determinate partite Affronti le partite Con una tranquillità Tale Da poter Dire Di avere Il DNA Europeo È questo Il DNA Europeo Che se il Milan Si gioca una finale Dice dai regà Prova a vincere l'ottava Se la Juve gioca una finale Dice cazzo regà Potevamo rischiare Di perdere l'ottava Una figura di merda Che l'amorosa Gli tremano le gambe La differenza è quella Il Napoli gioca per la prima Quando scenderanno in campo Di Lorenzo Merette eccetera Sentiranno Che giocheranno Per la prima volta Nella loro storia Un quarto di finale Di Champions Per il Milan Nell'ennesimo Per quanto magari Alcuni giocatori Non l'hanno mai giocato Per il Milan Nell'ennesimo E questo a mio avviso Ti dà tranquillità Ti dà una grande Tranquillità Dall'altra parte però C'è un grande favore Per il Napoli Ovvero che Quando si affronteranno È possibile Che il Napoli Abbia Praticamente Già ipotecato Lo scudetto E Probabilmente Già adesso Ha già ipotecato Lo scudetto E che quindi Potrebbe non essere Un grosso problema Il Impegnarsi in realtà Sul fronte Champions E basta Il Milan invece Potrebbe davvero Aver in atto Una lotta da dentro Fuori Per la Champions Perché veramente Potrebbe arrivare Secondo, terzo, quarto Quinto O se ritanni punti Alla Juve Anche sesto È per questo che vi dico Che forse Probabilmente Sarebbe il caso Di considerare Sotto questo punto di vista Il Napoli favorito Però Per il compo totale Per l'esperienza Dovano un per cento in più Al Milan Fatemi sapere La vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Siete contenti dei sorteggi E beh Buonasera l'allene come sempre Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti